Ci troviamo nell'auditorium di Andrea Bucelli all'interno della nuova Accademia della Musica di Camerino intitolata Franco Corelli. È una bellissima struttura che la Fondazione ABF ha donato alla città di Camerino e al tutto il territorio. Naturalmente noi abbiamo avuto gravissime lesioni dal terremoto del 2016 che ha lesionato gravemente il nostro Palazzo della Musica all'interno della nostra bellissima città. Le nostre attività sono riprese all'interno dell'Istituto Professionale di Stato di Camerino Gilberto Ercoli che tuttora è all'interno di un container dal terremoto del 1997. Naturalmente gli spazi erano spazi piccoli, non avevamo possibilità di poter svolgere le nostre attività con una bellissima realtà che fa parte della nostra associazione che è la banda e orchestra di fiati della città. È un organico strumentale che raccoglie giovani non solo della città ma di tutto il territorio. Come dico sempre la musica deve unire, ha una forza grandissima e il fatto di vedere appunto tantissimi giovani che vengono dal territorio e si ritrovano insieme per fare musica, questo è una grandissima gioia. Oggi all'interno di questa struttura tutte le nostre attività possono trovare miglioramento, possono essere potenziate. Già stamattina abbiamo appunto avuto occasione di poter effettuare una bellissima registrazione, una bellissima esperienza su un brano inedito e moderno, su una canzone di Giovanni Caccamo, con un arrangiamento particolare per orchestra di fiati e appunto con l'inserimento anche degli effetti sonori molto moderni e accattivanti. Siamo stati trasportati in una dimensione un po' sanremese, dunque pensavamo di essere un'orchestra di Sanremo con il direttore con la cuffia e l'orchestra sotto che segue il gesto. Dunque una bellissima esperienza, ringraziamo la BF, Giovanni Caccamo che ci hanno dato questa opportunità per questo esperimento. Da qui, dalla nuova Accademia Franco Corelli, sicuramente partiranno tantissimi nuovi progetti interessanti e stimolanti per tutti.